Hermann Corrodi, processione lungo il mare, 1873. L'opera non è datata, ma, visto il soggetto trattato, è facile che almeno nella sua prima stesura risalga al periodo del soggiorno caprese nel 1873. La dicitura Roma, accanto alla firma, indica che l'artista aveva realizzato uno schizzo sul posto dal vivo per poi completarlo e rifinirlo, dopo, nel suo studio. Si tratta di una scena ambientata lungo una scogliera dove in alto sulla roccia è incastonata la chiesa, davanti alla quale si affollano numerose figure. Lungo la ripida stradina che conduce l'edificio si trovano altri personaggi in abiti popolari tradizionali del sud Italia. Insieme è caratterizzato da una luce forte, chiara, che delinea con precisione le forme ed in particolare le linee architettoniche della costruzione religiosa.